Ciao ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video oggi vi volevo far vedere cosa mi è arrivato da Wish che è un sito dove sono arrivate altre 10 cose anche di più e ve le recensiono in un altro video oggi vi volevo far vedere quello che mi è arrivato una cosa da Sirina tutta fatta in questo modo e poi il pezzo di sopra che è azzurro con i veletti qua e l'ho pagato 2 euro si lo so, questo sito costa pochissimo ma è solo un misurone, ma la Barbie eccola qui ragazzi, questa è la nostra Sirinetta la realtà umana come vedete, tiene i piedi qui che l'ho misurata, sta benissimo le mani che sono elastiche quindi vanno a qualunque Barbie la coda, potete avere dei problemi nel caso avete la Barbie quali deformata al fashion instance, quella non si mette in questo modo la coda è un'altra perlucica e niente, spero che questa coda la Sirina che ho ordinato vi sia piaciuto se così mettete un bel like e iscrivetevi al canale ciao noi come sempre ci vediamo al prossimo video e comunque questo è il vestito di origine della Barbie e queste erano le scarpe abbinate con l'abito ho fidato la borsetta a lei vabbè ciao ci vediamo al prossimo video ciao ciao